Quest'anno si celebra il decimo anniversario di Infinito, che è il primo Science Center dedicato all'astronomia del nostro paese. Il centro è un centro molto noto tra gli studenti, tra le persone che sono interessate di astronomia, perché è un centro per la didattica ed è un centro per la divulgazione scientifica. Il centro rappresenta un elemento di grande importanza all'interno degli enti del nostro territorio che si occupano di divulgazione scientifica e ha visto la compagnia impegnata nel corso di questi dieci anni con un investimento di oltre 4 milioni. Il tema dell'investimento nella continuità che è stato realizzato ha consentito al centro, nel corso degli anni, di ammodernare tutte le sue apparecchiature, di diventare sempre più attraente e certamente l'impegno della compagnia è anche previsto per i prossimi dieci anni, per cui oggi abbiamo la celebrazione della conclusione del primo decennio, ma anche dell'avvio del secondo.